Un cordiale buongiorno da Andrea Biagioni di Florence Multimedia per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla 11 dove a causa del traffico intenso si registrano code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola in direzione Firenze. Spostiamoci in Fipili dove a causa di lavori si segnalano 3 km di coda tra Ginestra Fiorentina e La Strassigna in direzione Firenze e un km di coda invece in direzione Livorno. In A1 si ricorda che a causa di lavori rimarranno chiusi fino alle 18 di oggi i tratti tra Aglio e Roncobilaccio in direzione Bologna e tra Pian del Voglio e Aglio in direzione Roma. Cantieri di Firenze fino al 4 giugno per lavori di messa in sicurezza del guardrail rimarranno chiuse le rampe in entrate e in uscita di viadotto Marco Polo, lato Viale Europa, via Pian di Ripoli. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e comune di Firenze. Buon viaggio!